Ho conosciuto una persona che mi ha dato il vostro indirizzo, vi ho contattati e sono preso appuntamento e sono arrivato qua, in Moldavia. I dottori sono stati bravissimi, molto professionali, mi sono trovato molto bene. Io prima avevo problemi per masticare, sorriso, tutte queste cose qui che mi hanno creato parecchi problemi. Ero sempre in difficoltà, non riuscivo a sorridere, sempre con... insomma dovevo fare attenzione quando parlavo. Quando sono tornato in Italia dopo i primi lavori che ho fatto, mi hanno trovato i parenti, amici, molto cambiato. Sembrava un'altra persona, proprio nel parlare, nel sorridere, nel cambiata la vita. Io consiglierei a tutti quelli che hanno problemi di venire qua, perché è stata un'esperienza positiva. Per me il sorriso è importantissimo, specialmente alla mia età, perché ti fa sentire meglio, molto importante.